Mauro, una seconda vittoria con il Davos che vi lancia la sfida con il Berna, con che spirito e con più certezze? Sì, era importante dopo di ieri che possiamo ancora vincere qua, sono importanti punti per noi, abbiamo fatto sei punti questo weekend e sì, è buono così. Cosa ha funzionato di più, cosa ti è piaciuto di più di questo fine settimana? I punti, è chiaro che abbiamo fatto sei punti, vogliamo andare avanti così, si dà un po' fiducia così. E finalmente è arrivato il tuo primo gol stagionale proprio contro la tua ex squadra. Sì, è sempre speciale anche solo giocare qui, per fare un gol è bello, per aiutare così un po' la squadra anche, alla fine è più bello che abbiamo vinto qua. Adesso con tutto il rispetto per il Davos, facciamo una battuta, hai cambiato maglia al momento giusto? Sì, per me sì, ma a me piace tanto il Lugano, speriamo che va avanti così per me sì. Grazie mille. Grazie.